Buonasera, buonasera Buonasera C'è qualche splendido quarantenne in sala? Mario, vai su Sono quarantenne Va bene, allora questo è per noi Ho 40 anni qualche, ho un sacco, troppo i barri sulle spalle, troppo schifo per poter dimenticare. Ho vissuto il peronismo, straci russi, straci neri, aereotrani, scusi, un volo e le bombe sopra il peo. Ho visto gladiatori sorridere in diretta, in quest'nest dei nazisti, nella nuova destra ho visto bombi, di stampo, scoppiare nelle piazze, di anarchici distratti, cadere in giù dalle finestre. Ho un armadio pieno, di tangente, di manzette, di armi e musici, di scheletretti, schifezze, ho una casa piena d'olio, di corrette, di fazioni, di qualifici corponi. I miei amici sono ragioni, puttani, di baci e neri, dragati, sono robbi, sono mafiosi, ma sono impiduidisti. Ho vissuto il peronismo, straci neri, aereotrani, scusi, un volo e le bombe, sono impiduidisti. Ho un armadio pieno, di tangente, di manzette, di armi e musici, di scheletretti, schifezze, ho una casa piena d'olio, di corrette, di fazioni, di qualifici corponi. I miei amici sono ragioni, puttani, di baci e neri, dragati, sono robbi, sono mafiosi, ma sono impiduidisti. I miei amici sono ragioni, puttani, scusi, un volo e le bombe, sono impiduisti. I miei amici sono ragioni, ho protetto traficanti, figli di puttana e ho comparto, ti accorgi di palare. Ma ho scoperto l'altro giorno, guardarmi allo specchio, di essere ridotta ad uno straccio. Questo male irreversibile mi ha tutta divorata, è un male d'agliofano e da scudo trocciato. Ma ho un'armadio pieno, di tangente, di mazzette, di armi e raffioni, di scheletretti, schifezze, ho una casa piena d'olio, di corrette, di fazioni, di qualifici corponi. I miei amici sono ragioni, puttani, neri, baci e neri, dragati, sono robbi, sono mafiosi, ma sono impiduisti e reposconi. Allora, grazie per l'accoglienza innanzitutto. Abbiamo bisogno un attimo di aggiustare i suoni, perché non ci aspettavamo tanta gente. C'è la discoteca qua vicino, c'è la discoteca Inferno, non so come si chiama. Andrea, io avrei bisogno un po' generale di alzare il monitor. Ecco, questa era una comunicazione tecnica.